Si risponde alla violenza verbale che può avere Salvini nei suoi comizi con la violenza fisica di questi gruppuscoli riconducibili ai centri sociali che continuano a mettere a ferro e fuoco la città. Questi atteggiamenti di violenza e anche di lancio di bombe carta, di fumogeni sono inaccettabili. La futura amministrazione 5 Stelle non avrà tolleranza per questi episodi di violenza e sicuramente ci costituiremo parte civile nel caso in cui vi siano episodi di danneggiamento alla cosa pubblica perché spesso sono stati coperti politicamente e anche questo è inaccettabile. Alcune forze politiche hanno coperto queste frange violente in città ed è inaccettabile. In futuro non sarà più così e cercheremo assolutamente di limitare i loro atteggiamenti di violenza come anche i loro fenomeni di occupazione delle case pubbliche.